Non era facile dare continuità alle prestazioni, Siena che davanti almeno sulla carta ha un organico molto importante, tu e Gianmarco lo avete sostanzialmente limitato sempre, per Gianmarco intendo ingrosso. Sì, è stata una partita sicuramente tosta, non era una partita facile, ma penso che abbiamo fatto una grande partita da squadra. Abbiamo fatto bene, abbiamo concesso pochissimo, peccato il gol all'ultimo secondo, ma questo non ci deve capitare. Sicuramente è una cosa che dovevamo migliorare, poi abbiamo fatto una grande prestazione da squadra. Ti chiedo questo, Julian, a inizio anno i nomi sono sempre gli stessi, tu Gianmarco, Drudi, Frascatore, Cancellotti, Veroli, però all'inizio dell'anno prendevate tanti gol e subivate tanto. Con Derisio davanti alla difesa e con il nuovo assetto è cambiato qualcosa o avete capito meglio voi come vuole giocare Euterio? No, penso che abbiamo avuto un periodo nel quale a livello di fase difensiva tutte le squadre facevano un po' di fatica a capire i movimenti, a capire come dovevamo difenderci in campo. Abbiamo subito tanto, però c'è anche da dire che a volte ci calciavano mezza volta in porta e ci facevano due gol. Adesso non ci sono più gli avversari che vi arrivano tre contro due lì? No, quello è anche vero, sicuramente siamo in un periodo buono e lo dobbiamo sfruttare.